benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video e adesso volevo cominciare dato che ho due cellulari quindi sto registrando con il huawei il p8 lite con il cellulare vecchio e qua praticamente il samsung s8 plus e ho due cellulari quindi adesso posso fare dei video non aprirò una rubrica perché comunque non penso che lo farò spesso insomma adesso vedi vede un pochino dato che comincio oggi come primo video su questo argomento qui come vedete questo è un quaderno normale semplice da disegno come sapete che tanti voi avete visto sia su instagram e facebook carico qualche foto di miei disegni che faccio di solito faccio robe dei tatuaggi però anche in generale insomma ecco e quindi dato che ho due cellulari quindi posso registrare con voi ecco samsung guardare il disegno che dovrò andare a fare come in questo caso qui ho preso questi disegni qua questa tartaruga tribalizzata tipo il cavallino il viso così di nuovo la volpe e il cane e la donna e niente quindi volevo vedere un attimo anche come mi trovo facendo il video disegnare sperando che comunque vediate bene e niente quindi sono contenta anche di questo che così perché già ci avevo pensato di fare il video dove disegnavo però capito ciò voi disegni salvati intel huawei quindi se lo registrare come faccio perché uno dice sì lo puoi vedere lo puoi guardare benissimo da come si dice da pc ma dal pc non riesco tanto mi piace di più guardarlo qua proprio nel telefono e quindi niente questi saranno dei nuovi video che farò riguardante il disegno come disegno eccetera eccetera come coloro e triche ballacche e dopo come vedete vedete questi disegni per esempio sono colorati diciamo come questo soprattutto però questi disegni qua io uso poi il tratto pen come come definire insomma tutto il disegno il nero eccetera eccetera e niente quindi iniziamo subito e iniziamo con questa qui la tartarughina tribale come la vogliamo chiamarlo lo so l'allargo un po così lo vedo meglio andrò a disegnare questa tartarughina qua ovviamente tatuaggio e niente io vi lascio il video spero che quest'altra tipologia di video che comincerò a fare vi piaccia e niente spero di sì dopo in caso sotto i commenti mi commentate noi ci vediamo comunque a fine video ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccomi qua, allora questo qui è il disegno finito della tartaruga che vi ho fatto vedere prima, poi ve l'ho fatto vedere anche a rallentatore per farla vedere meglio. Cosa ne pensate? Io spero che vi piaccia, così non ce la faccio a riprendere perché è in orizzontale il telefono, non è dritto. E niente, questo qui è il disegno finito, io spero che vi piaccia e fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuto il disegno di questa tartaruga tribale tipo tatuaggio, insomma. E anche se vi piace questa tipologia di video dove vi faccio vedere dove faccio i disegni, dove disegno io, insomma come disegno, che tipi di disegni faccio, insomma tutte queste cose qua. Perché io questi disegni li faccio tipo, che ne so, la mattina faccio un video, lo modifico, lo carico su YouTube. Siccome dopo, come sapete, a mezzogiorno e tre quarti esce mio figlio da scuola, quando è verso le 11, 11 e un quarto, così mi metto a disegnare. Faccio in teoria due disegni, però adesso che comunque ho iniziato a fare questi video, ecco, come disegno e tutto, la mattina presto, insomma, eccetera, eccetera, faccio il video anche sui disegni. E niente, quindi fatemi sapere se anche questa tipologia di video vi piace. E niente, ho pensato di fare anche queste altre tipologie di video, dove disegno, eccetera, quindi fatemi sapere, mi raccomando sotto i commenti se vi piace questa tipologia di video, in più se la tartarughina via di vostro gradimento, insomma, se vi è piaciuta. E una cosa, non ho ripreso quando io coloravo col tratto pen, con questo qui, col tratto pen dentro i bordi, perché tanto di dopo vi annoiavate pure, finiva lunghissimo, questo video durava un bel po'. E dopo a me mi capita di fare dei disegni dove li coloro, ecco, così e basta, faccio solo il contorno, tipo come qua le ondine e basta, quindi quello ve lo posso riprendere. Però quando mi capita di disegno, ecco, come la tartaruga che devo colorare dentro, casomai non riprendo e lo vedete direttamente, insomma, alla fine il disegno. Quindi quando mi capita di fare un disegno dove lo devo colorare e devo solo fare il contorno col tratto pen, ve lo faccio vedere, insomma, ve lo riprendo. Infatti all'inizio, come avete fatto caso, ho fatto prima il contorno, ho fatto prima il contorno per farvi vedere, insomma, eccetera, e poi alla fine ho colorato dentro la tartarughina. E niente, io spero che vi piaccia, fatemi sapere, mi raccomando, sotto nei commenti. E io niente, vi lascio un bacio e ci vediamo presto, al prossimo video. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS